Proveniente dalla Clinica Pediatrica Universitaria di Trieste, si è insediato a Ravenna il dottor Federico Marchetti, nuovo direttore dell'Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia dell'azienda USLA di Ravenna. Alla conferenza stampa di presentazione, il dottor Marchetti ha illustrato gli obiettivi del proprio mandato per la coordinazione dei tre punti pediatrici di Ravenna, Lugo e Faenza. Dottor Marchetti, innanzitutto benvenuto fra noi. Ravenna è una realtà complessa. Quali sono le criticità che lei ha già incontrato e come intende affrontarle? La realtà di Ravenna può avere le sue criticità, però quello che ho visto sono più le potenzialità enormi che ci sono. Perché ho trovato un modello organizzativo già molto favorevole, una storia della pediatria di Ravenna che va assolutamente valorizzata e una disponibilità in termini di professionisti che lavorano molto ben orientati nel fare nel modo più efficace ed efficiente le cose che sono proprio nell'ottica assistenziale migliore per i bambini di Ravenna, Faenza e Lugo. L'aspetto di criticità uno può immaginare che può stare nei tre presidi, ma vorrei rassicurarvi sul fatto che i tre presidi lavorano e cercano di farlo sempre di più, è una cosa che si sta sempre più implementando in perfetta sinergia tra di loro attraverso una serie di procedure, di qualità e di modelli di assistenza che sono uniformi tra i tre presidi e tutto questo va in qualche modo rafforzato attraverso un percorso che incontra innanzitutto noi medici ospedalieri sempre di più e soprattutto che incontra i pediatri di famiglia con i quali stiamo lavorando e c'è un'ottima sinergia di idee, di vedute su quello che possiamo fare insieme e questa è una visione ma poi nella realtà dei fatti saremo in qualche modo giudicati. Tra i suoi incarichi c'è anche quello di sviluppare le già grandi potenzialità che questa struttura offre. Come intende farlo? Che cosa vuole raccontare ai genitori dei piccoli pazienti? Sì, si riallaccia un po' a quello che dicevo alla fine, l'integrazione con la pediatria di famiglia è fondamentale. La salute del bambino non appartiene all'ospedale, non appartiene in senso stretto al pediatra di famiglia che indubbiamente è la persona a cui il bambino fa riferimento ma in situazioni particolari e critiche un lavoro insieme che cerca di evitare quando è possibile l'ospedalizzazione o nei casi che stanno male garantisce un'ospedalizzazione qualificata la più breve possibile sono gli obiettivi che ogni pediatra si dà come mandato stando vicino il più possibile alla famiglia favorendo al meglio la qualità assistenziale dentro l'ospedale. Sono cose sulle quali bisogna lavorare perché nessun ospedale in questo è perfetto parlo di realtà complessive e generali e l'obiettivo è quello di saper distinguere molto bene i bambini che hanno effettivamente bisogno di aspetti di cure intensive, quelli che stanno davvero male rispetto ad altri che hanno sicuramente un bisogno assistenziale ma che poi possono essere in cura benissimo al pediatra di famiglia. Accanto a questo c'è l'aspetto del bambino cronico del bambino che nasce e che ha qualche problema che sono i due ambiti che sono già molto ben seguiti a Ravenna e soprattutto sul bambino cronico stiamo cominciando a parlare di avere una migliore qualità dell'assistenza per fare in modo che soprattutto su questa tipologia di bambini le nostre risposte possano essere le più adeguate possibili.